La import di oggi è stata una regata complessa e Genova purtroppo ha sempre poco vento in questo periodo dell'anno ma abbiamo combattuto dall'inizio alla fine, non è stata una regata semplice, non eravamo davanti fin dall'inizio ed è stato un testa a testa con malizia fino a pochi centimetri dall'arrivo e quindi è bellissimo per noi finire l'Ocean Race con la vittoria generale, la vittoria nelle import series e la vittoria nelle import di oggi, è veramente un premio per tutto il team la lista è lunghissima, nominarli tutti sarebbe lunghissimo ma il team è fantastico per me è un'emozione incredibile ogni volta che questa regata finisce è difficilissimo tornare a casa perché passi più di sei mesi insieme a un gruppo di persone che sono incredibili e ti svegli una mattina e la regata è finita e le barche partono, tutti quanti prendono gli aerei e partono e c'è un po' anche di solitudine finché non la fai questa regata è difficile da capire veramente che emozioni ti porta non è l'ultima volta che li vedete sul palco Allora, DJ! Francesca, chi senti? Chi senti? Buon applauso per il nuovo ragazzi Grazie